ciao amici ben ritornato un'altra puntata della reazione dell'americano io sono l'americano mi chiamo franco non sono proprio americano sono italo canadese i miei genitori hanno emigrato dall'italia tantissimi anni fa qui al canada oggi abbiamo un nuovo artista questa è la prima volta lo stiamo a di 6 premier premiando i don't know premier in italian vediamo vediamo che dicono prima adesso questa è la prima io so la parola prima non pensavo che premier premier significa in inglese per la prima volta facciamo qualcosa forse la stessa parola i don't know anyways facciamo edoardo benato con una canzone che si chiama mangia fuoco io sempre dico che caprezza sputa fuoco invece questo non lo sputa lo mangia lo mangia ok ora cominciamo con edoardo benato mangia fuoco live questo mi sta facendo ricordare un pochettino del una canzone da i rolling stones well you know men and men and a canzone di rolling stones you pensate di chuck berry che era coperto dai rolling stones fade away come comincia la canzone un po veloce con la chitarra c'è un po de un blues un senso di blues vediamo io sto passando questo su undici secondi io posso essere sbagliatissimo mi sa facendo ricordare un'altra canzone non me la ricordo come si chiama ma canzone in inglese Non fa tanti, complimenti Chi non balla o balla male Lui lo manda all'ospedale Ma si scopre che un figlio non ce l'hai Se si accorge che da loro fai Allora sono guai Mi sta facendo ricordare una canzone della Led Zeppelin Quale canzone non me la ricordo Sempre mi è piaciuto quello strumento L'armonica, sempre Voglio bene il mio Young Tutti i capi del partito Esso in alto Mangia fuoco Mangia fuoco Fa le scelte Muove i figli E si diverte Ma si scopre che un figlio non ce l'hai Se si accorge che da loro fai Allora sono guai Te ne accorgerai Devo dire che mi sta facendo questa canzone molto In testa sto pensando Ma chi mi sta facendo ricordare C'è una canzone da Led Zeppelin Che ha un stile Stile Non stilo Che stilo è una penna Che mi sta facendo ricordare qualcosa di Led Zeppelin C'è qualcosa Una delle canzoni dove usavano la chitarra acustica Mi sta piacendo Attento a quel che fai Attento ragazzo Ti chiami il suo gendarmi E ti dichiama Ups, scusa Oh yeah C'è una canza Molto bella Tra l'lecchino La dolcinella Si riempiono i calci Sbattano le ossa Mangia a fuoco Sta alla cassa Mangia a fuoco Fai i biglietti Piene i prezzi Molto alti Non c'è altro Contorrente Chi ci prova Se ne pente Ma se scopre che Tuoi figli non ce l'hai Se si corge Tuoi bello non lo fa E' proprio questa parte qui Quello dove dice Non ce l'hai Fino alle guai Mi fa ricordare Una canzone Non... Non me la ricordo Mi chiami il suo gendarmi E ti dichiara E ti dichiara E ti dichiara Un passo 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 Questo mi piace Questo è Edoardo Benato Non lo conoscevo voglio scoprire di più di Edoardo non si sapeva io non lo sapevo che all'anni 70 esisteva questa musica in Italia è una cosa grandissima bravo l'Italia, bravo l'artista Edoardo Benato fammi sapere che ne pensate se avete qualche richiesta di Edoardo fammelo sapere iscritto e clicca piace ci vediamo presto amici ciao